Il 31 maggio a norma di legge saranno chiusi gli ospedali psichiatrici giudiziari. A protestare ci sono le famiglie e le associazioni a tutela di questi malati. L'obiettivo è quello di avere la certezza che i pazienti non vengano lasciati all'abbandono e oggi si sarebbe dovuta tenere una riunione dell'assessorato alla sanità per discuterne. A manifestare c'era anche il Movimento 5 Stelle che ha rivolto le sue perplessità circa le conseguenze che si verificheranno dal primo aprile prossimo. Presenteremo tra qualche giorno un'interpellanza regionale, non solo, chiedendo delle risposte ferme, delle prese di posizioni ferme perché non possiamo continuare in questa regione a tagliare i servizi. Qui i tagli che bisogna fare sono solo sugli sprechi, quindi ancora una volta stiamo tagliando servizi, si chiuderanno gli ospedali psichiatrici il 31 marzo, qualcosa di allucinante, lasciamo delle persone, gli ultimi di questa terra, persone che stanno nel dolore, nella sofferenza, in mezzo a una strada. Questa è una situazione che non consentiremo, come sempre il Movimento 5 Stelle ci sarà, sarà dalla parte degli ultimi, faremo ogni tipo di azione importante e indispensabile per la tutela di questi utenti. Una richiesta esplicita alla Regione Abruzzo, quella di intervenire, di non lasciare le famiglie di questi pazienti nella condizione di abbandono e pericolo. Il Presidente deve prendere una decisione importante, chiara e ferma. Evidentemente quando non ha nulla da dire il Presidente non c'è e questo è grave. Anche oggi rileviamo l'assenza del Presidente e l'assenza dell'assessore Paolo Luci per adesso.